Premio nonino, Rizit d'Aur, Barbatella d'Oro 2018 a PUR! PUR è un progetto che cerca di espandere la conoscenza, la consapevolezza e le varie responsabilità del mondo del bar. Il supporto delle comunità produttrici di ingredienti necessari per un cocktail, per esempio, sono senza altro una delle cose più importanti per garantire la longevità di questo mondo meraviglioso che continua a offrire tantissime opportunità per le generazioni presenti e future. Lo facciamo perché possiamo, e possiamo perché vogliamo, e vogliamo perché qualcuno ha detto che non saremmo mai stati in grado di farlo. Per contribuire o migliorare le condizioni di chi ha più bisogno di noi, basta solo osservare solo una cosa, la voglia di farlo. Grazie.